Ciccia! Il droide vermuto della morte bavosa ne vuole prendere ancora! E sono 6 milioni e 200 punti! Sì! Sono il campione del mondo! Yahoo! Il guardiero dei denti al laser semina terrore e desolazione sul pianeta Krypton! Tutti gli humanaci sono stati sterminate! Il male trionfa e su tutto il pianeta la falla la clama! Itef! Ho bisogno di te! Si richiede il più grande guerriero trasmondo virtuale di tutti i tempi! C'è un pianeta da laserizzare, un mondo da atomizzare oppure una galassia da vaporizzare! La tua sorellina è senza babysitter e io e tuo padre dobbiamo andare a fare spese sul pianeta supermercado! Bene, chiariamo alcune cose, Sisi! Io non ho chiesto sorellina e non sono mai venuta a cercarti! Quindi adesso devo sterminare tutti gli humanaci! E tu sarà meglio che non mi rompi per il resto della giornata! È tutto chiaro? Povero giocattolo! Bene, dai a dopo! Ehi piccola, cosa stai combinando? Sei matta! Ma non è possibile! Non si può nemmeno più sterminare in pace qui! Non comandi tu qui, piccola peste bavosa! Razza di torturatori di bambini! E qui ti urlate in questo modo! Non è niente, è solo la mia sorellina! Beh, non è un buon motivo! Ti avverto che se continui io chiamo la polizia e adesso torna dentro! Cosa è il delfino? Oh, guarda quanto è bello! È il piccolo delfino di Sisi! È per me! Come sei gentile! Grazie! Ma allora, è per me o no questo delfino? Oh, com'è carino anche questo giocattolino! Me lo vuoi prestare? Bene, neanche questo! Va bene! Oh, d'accordo! Neanche la bambola, giusto! Ah, beh, credo di non essere pronta a fare dei bambini! Molto bene, Sisi! Ti do il delfino in cambio della bambola! Continua a non volermi prestare il tuo giochino! Vieni, è per te! Allora, la finiamo? L'abbiamo la polizia! Tieni, ecco tutti i tuoi giochini! Sono tutti qui, non manca niente! Tutti i tuoi giochini, sì! Guarda, ancora un altro! Ma ti supplico, smettila di piangere, va bene! Ok, d'accordo, va bene, me ne vado! Non tiro un po' più, ti lascio da sola! Ma che cosa succede, Sisi? Non abbiamo la felice, Lassone! Ecco, è una bambina piccola e carina la mia Sisi, eh? E adesso T-Tef forse può andare a massacrare tranquillamente i cattivi umanaggi! Siamo stupi! Continua a torri di bambini! Ma che cosa c'è che non va adesso, eh? Hai perso il tuo giochino! Tieni, eccolo! No, ma non è possibile! Adesso però esageri, io non sono il tuo schiavo! Ok, 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 va bene, lo raccolgo! Sono il tuo schiavo, eh! Tieni! Almeno così non potrai più perderlo il tuo giochino! Ah, perfetto! Stavolta ci siamo! Posso tornare a massacrare gli umanaggi! Gna gna, sono miei! Ci siamo, sono miei! Faccio scoppiare la testa a tutti! Ci siamo, ci siamo! Break, time out, time out! Bene, lo vuoi il tuo giochino? Spaccia di cibice bavosa, non preoccuparti, l'avrai Ma ti garantisco che non uscirà mai più dal tuo box, mia cara! E uno, e due, e tre, zero! Vieni pure a vedere se vuoi, non è certo con quelle piccole i dita da niente che potrai Cosa? Ci siamo, antico! Adesso vedrai! Mica male? Allora chi è il più furbo adesso, signorina piccola peste, eh? Mamma! Torni presto! Cosa? No! Devo farla mangiare, metterla a letto, ma non posso, lei non vuole! Abbiamo avuto un problema con la macchina, mi devi assolutamente sostituire ancora un po', ma sei un ometto ormai, vero? Io so che posso contare su di te! Va bene, ma fate più in fretta possibile! Dile! Oh, caro! Vedi quel che vedo io Siriaccia, cos'è successo qui? Oh, non è possibile, non credo ai miei occhi Zia, zia Zizi, lo sai tu che figli ha fatto di te? Zia, zia Zia, zia